In attesa di un incontro ufficiale sulla crisi della N2S Pia di Osimo, che ha ipotizzato 35 licenziamenti entro Natale, l'assessore al lavoro Guzzi ha fissato per lunedì un appuntamento con l'azienda Guzzini di Recanati, che ha annunciato 103 licenziamenti. Ho incontrato i sindacati di Guzzini per fare un po' il punto e capire a che punto è la situazione dal loro punto di vista e la trattativa. L'unio di prossimo vedrò l'azienda e su questo se riusciamo a dare un contributo per arrivare anche in questo caso alla migliore soluzione possibile, ovviamente faremo di tutto. Aguzzi fa un'analisi sul drammatico momento per Enedo, Guzzini e Elica. Una serie di crisi purtroppo molto dolorose e anche abbastanza pesanti che avvengono in un momento che comunque è di ripresa, perché noi vediamo molte imprese sul territorio che si stanno muovendo positivamente, c'è anche una ricerca di personale, anzi in alcuni casi si è una difficoltà a reperire il personale. Purtroppo queste crisi evidentemente erano un po' più strutturate storicamente e magari durante la pandemia hanno subito un colpo che in qualche modo non riescono oggi, diciamo così, ancora a superare. Speriamo che si trovino in una migliore soluzione possibile e da questo punto di vista la regione è fortemente impegnata. L'assessore è reduce da un lungo incontro al Ministero sulla vertenza elica e ribadisce il proprio impegno. Come regione siamo sempre stati presenti fortemente in questa vertenza perché noi ci teniamo ovviamente che siano garantiti innanzitutto i posti di lavoro nel miglior modo possibile e in maniera più ampia possibile. Poi sinceramente ci teniamo molto anche sul fatto che un'azienda che è nata, sia consolidata su questo territorio, ed è un'azienda conosciuta come un'azienda marchigiana, mantenga qui effettivamente le sue posizioni, le sue attività, il suo marchio, la sua presenza. Ecco, una delocalizzazione d'amblea assolutamente non l'avremmo accettata come regione.